Luca Stival, appena 23 anni, giovanissimo, già proprietario di un'azienda agricola. Come sei partito e da dove è nata la tua passione? Innanzitutto io già da piccolo avevo una passione soprattutto per l'agricoltura, per stare sui trattori in realtà. E quindi quando venivano appunto a lavorarmi i terreni ero lì che guardavo, salivo sul trattore e mi piaceva appunto quell'ambito. Poi mano a mano durante gli anni ho capito che comunque la passione che avevo da piccolo poteva diventare un lavoro. Appena finita la scuola, superiore, ho fatto il cerletti, ho deciso anche grazie ai miei genitori di aprire un'azienda agricola. Avevamo dei terreni già di proprietà, poi adesso ci siamo già ampiati. Comunque ho deciso di aprire l'azienda e di puntare come prodotto di punta dell'azienda sul lupolo. Una cultura minore in Italia che però è in rapida espansione perché per creare una birra italiana appunto serve avere la materia prima italiana, ovvero l'upolo e l'orzo, il malto d'orzo. E che tipo di pianta è il lupolo? Quali sono le sue caratteristiche? Che tipo di terreno gli serve per crescere bene? Allora, l'upolo è una pianta cannabinacea, comunque è una liana, quindi cresce da per terra fino a 6 metri. Come si può vedere l'impianto è abbastanza alto e qui 6 metri, poi in altre parti del mondo crescono anche 7 metri o quasi 8 metri alcuni impianti. Questo permette appunto che la pianta sia più produttiva perché fa fiori, fa dei fiori che poi vengono usati per la produzione della birra e quindi più alta è, diciamo più fiori può fare. Comunque è una pianta che ha un ciclo di vita che dura 20 anni, 25 anni come può essere un vigneto e i terreni si adattano un po' a tutti i tipi di terreni perché comunque è una pianta infestante. Ovviamente ci sono i terreni più e meno vocati a questa cultura. Noi qui in Italia sia per tipologia di terreno sia per pedoclima utilizziamo delle varietà americane perché si adattano molto meglio rispetto alle varietà tedesche o di altri paesi tipo Repubblica Ceca o Polonia perché insomma in America vengono piantate in California o in alcune parti comunque dell'America centrale dove la temperatura e l'umidità è molto simile a quella prevente nel nord Italia. E tu quanto lupolo produci e soprattutto quanto ne serve per poi produrre la birra? Adesso abbiamo una produzione stimata di circa 20-30 quintali però abbiamo non tutti gli impianti in piena produzione. Quando siamo in piena produzione dovremmo arrivare a una produzione stimata di circa 40 quintali di lupolo secco per la vendita ai birrifici. In realtà nella birra ne serve molto poco nel senso che quando io faccio la birra con il birrificio essendo che faccio anche delle bottiglie da vendere su una cotta di 300 litri di birra usiamo poco più di un chilo di lupolo quindi comunque ne va usato molto poco sulla birra. Grazie Grazie Grazie